buongiorno a tutti eccoci a londra ancora una volta su questa cable car che a me piace tanto per andare a vedere lo 2 arena un gruppo assieme a me tanto per cambiare di tennisti o ex tennisti come luciano che è qui alla mia destra per esempio eccolo qui inquadrano pure chiara eccolo si vede c'è anche antonio che proprio a tennis non sa giocare però però a tutti piace andare a vedere roger federer e king il grande king oggi allora oggi una semifinale incredibile roger federer contro sapevo che non eri preparato e allora e poi c'è anche di occo dice che gioca contro non lo sai anche queste sono le nostre semifinali si riesce a vedere qualcosa chiara le mie spalle ci vede che c'è il tamigi doppio giocano brian gioca soc gioca ma un gioca erber insomma ci sono un sacco di giocatori molto interessanti e questa è la zona del come si non lo sappiamo l'excel di londra ok parlano ci spiegano un pochettino quello che noi andiamo a vedere ma non possiamo vedere direttamente alle mie spalle ce l'ho due arena eccola adesso si dovrebbe vedere perfettamente scavalchiamo l'ansa del tamigi e ci arriviamo per vedere queste semifinali noi battezziamo sempre andare a londra per vedere le semifinali quest'anno ci va ancora bene c'è roger federer allora facciamo un saluto a chi ci sta venendo da casa ok ciao a tutti noi viviamo il tennis anche per voi ciao la prossima inquadra anche il notatore